Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla Firenze Pisa Livorno dove troviamo coda per incidente tra la Strassigna e Montelupo in direzione Livorno. Possibili disagi inoltre tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni per lavori all'altezza del turbone. Ci spostiamo sulla SR66 Pistoiese e da quest'oggi Senso Unico Alternato per lavori di riqualificazione messa in sicurezza nel comune di Quarrata. Il provvedimento è in vigore in orario H24. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via questa settimana segnaliamo quelli di asfaltatura in via di Mantignano e via Maso di Banco e la manutenzione dei sottopassi ferroviari di via del Romito, via Baracca e via Le Guidoni. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!